...di classe 1600, il gruppore, va ad allinearsi, mentre ha curato a Desensi, chiude in 308, e chiude risultando essere il più veloce con la sua piccola Fiat 530, in attesa dell'arrivo degli altri concorrenti. Partito Stolino, passiamo alla Sinternaz... ...è l'unico concorrente della classe 2000 aspirata, Pasquale P. Roncello, dell'Union Generation Racing, su Renault Clio Williams, mentre al traguardo Romano chiude in 326,8... ...pro Largery Villa "...la febando in 2i,19 gering a dell'Union Generation Clean metros, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.